Un buon importante eh Siri, hai fatto un bello stacco aereo e poi è una risultanza radiosa, un buon importante per la tua carriera, un risordio qua al comunale, non potevi desiderare di meglio. Sì, è un buon importante soprattutto perché è arrivato in un momento un po' difficile della partita, in cui c'era un po' uno stallo che non si riusciva né noi né loro a fare qualcosa comunque ad avvicinarci alla porta, era un po' un momento fermo alla partita e normale lo sbloccare. È importante perché arrivano i primi tre punti comunque del nostro lungo viaggio, ci serviva solo sbloccarci, cosa che non siamo riusciti a fare. Al di là dell'ottima prestazione messa oggi in campo, pensa che l'ideareggio sia stato penalizzato in qualche modo per i problemi finanziari in società che in questi giorni colpiva la squadra. Non ho mia idea perché comunque non sono nella loro situazione, io ho vissuto più o meno la situazione che hanno loro in passato e posso dire che comunque quando si va in campo si spegne tutti i problemi che restano fuori e si pensa solo a partita. quindi sì, magari un po' sono stati condizionati ma non più di tanto. Comunque quando si va in campo a maggior ragione che sono in questa condizione si fa sempre per cercare di dare il meglio e soprattutto farsi vedere, farsi notare perché allora hanno ancora la possibilità di cambiare squadra.